Ciao ragazzi, se anche voi siete stati scammati da un fuffaguru, questo video fa esattamente al caso vostro. Quindi, come al solito mi presento, io sono Andrea Ragazzo, sono un trader profittevole da 4 anni. Quindi, qua ovviamente vi vado a spiegare come arrivare alla magnifica cifra che tanti sognano, ovvero i 10.000 euro al mese. Ok, qua vi do delle proof, qua se fate la somma sono 10.000 e 15 euro. Poi qua vi ho lasciato dei payout, tranquillamente da InstaFunding, che è la prima barra anche quella l'unica che ho fatto vedere qua sul canale, quindi tranquillamente vi posso lasciare altri payout che non vi ho fatto vedere nel corso del tempo. La prima cosa da segnalare appunto è il cosa non cercare e soprattutto cosa non offriamo noi, perché di venderti un sogno non ne ho voglia. Ma perché? Perché andare a venderti un sogno significa anche andare a, o meglio, attirare a sé persone che poi non porteranno mai risultati. Perché le persone che vanno a cercare sale e segnali, corsi pre-registrati, software automatici, gestione e passaggio prop, investimenti miracolosi, sono tutte persone che sono opportunity seekers, quindi sono semplicemente persone in cerca dell'opportunità, non in cerca della voglia e del sacrificio di poter fare un lavoro come questo, perché purtroppo questo lavoro richiede tantissimo sacrificio. Vi faccio una, vi do una piccola situazione dove capire bene. Questo video so già che a tanti di voi non piacerà, però è il modo migliore per poterci arrivare, perché poi arriviamo a questa parte qua, ovvero il come arrivarci a questa suddetta cifra. Sale e segnali. La sale e segnali la maggior parte delle persone dice perché dovrei condividere in maniera, tra virgolette, magari alcuni gratuita eccetera, i segnali. Lo fanno, tra virgolette, sempre tramite una affiliazione al proprio broker. Ok? Quindi il broker viene, li paga diciamo, in base al capitale che voi andate a mettere. Una volta che il broker va a mettere un determinato, anzi, scusate, una volta che voi andate a mettere questo determinato capitale all'interno del broker, il broker mi dà l'affiliazione. Esempio. Facciamo un esempio. Io apro una sale segnali, totalmente gratuita, però al minimo di deposito sono 350 euro. Di quei 350 euro il broker mi dà almeno 250 euro, se non 200, ok? E questo come funziona? Funziona nel momento in cui voi aprite un tot di lotti. Quindi in base al capitale c'è una metrica, appunto, dove c'è scritto il tot di lotti da aprire, da farti aprire. Quindi è nel loro intento farti perdere soldi e non farteli guadagnare. Poi, ci sono le sale segnali, invece, quelle che costano semplicemente. Quindi ti costano 30-40 euro al mese, ok? Month, mettiamo così. Anche qua, raga, se io so che ho un win rate del 70% o del 60%, ok? Perché se voi leggete ogni singola prop, cioè scusate, ogni singola sala segnali, vedrete che hanno un win rate pazzesco, assurdo, incredibile. Poi quando siete dentro non fanno mai un cazzo. Perché questo? 70-60%. Per quale motivo? Perché ovviamente è più appetibile alle persone. Poi tenete conto che la maggior parte delle persone mettono TP1, TP2 e TP3. Incredibile proprio, eh? Le mettono sempre tutte e tre. Tutte le sale segnali che ci sono mettono sempre tre tipi. Boh, strano, eh? Mai visto, se non oltre ai sei segnali, però va bene. Facciamo un altro esempio ancora più importante. Se il 70% di win rate significa che su 10 operazioni 7 vanno a TP. Quindi 7 volte su 10 io ti faccio fare soldi. Perché dovrei fartelo pagare 30-40 euro al mese? Io te lo faccio pagare 1200 euro al mese. Perché tu stai andando ad utilizzare il mio tempo con la quale io sono diventato profittevole. Quindi se io lo vendo a 30-40 euro al mese, ci sono dei dubbi. Cioè mi sorgono dei dubbi. O tu sei diventato profittevole ieri, cosa che può essere plausibile, ma in ogni caso hai avuto del tempo e hai avuto dei costi per sostenere questo diventare profittevole. Quindi di per sé è un po' illogico il fatto che una persona possa andare a spendere 30-40 euro al mese per stare stronzata. Però va bene. E alla fine è la stessa cosa delle... Tipo delle subscription, eccetera. Tipo BE, IAM Academy, tutte queste stronzate qua. Andiamo ai corsi pre-registrati. I corsi pre-registrati ormai, ragazzi, sono sopravvalutati. Perché? Perché su YouTube, ma non sul mio YouTube, non solo sul mio canale, ma su qualsiasi canale che voi vedete ora, trovate tutte le informazioni che ci sono. Tutte. Tranne se qualche persona è talmente, magari un pochino come me, fissata, quindi vuole andare sempre nel deep delle cose, e allora qualcosa ha cambiato. Ma voi trovate tutto. Tutto. Da algo, dai siti, dai corsi sulla volumetrica, da qualsiasi cosa. Qualsiasi argomento che c'è, lo trovate tranquillamente su YouTube. Quindi il corso pre-registrato ormai è fine a se stesso. Quindi non è più la novità. Quello che vi serve a voi capire è che c'è supporto. Però ci arriviamo dopo. Software automatici. Software automatici, adesso arriva la persona sotto nei commenti e mi dice Andrea Ungher ha vinto i campionati mondali con i software automatici. Ok. Va bene. Ma allora per quale motivo nessun altro che ha comprato i suoi software automatici ha mai vinto i campionati mondiali? Purtroppo i software automatici funzionano fino a un certo punto. Ok. Funzionano per magari sei mesi, sette mesi, otto mesi. A meno che non l'abbia creato tu. Cioè tu sia in possesso del codice madre. Cioè tu sia in possesso dell'intelligenza che una persona è andata a utilizzare per creare quel software automatico. Purtroppo è così. Il software automatico richiede notevole tempo per andarlo a modificare, andarlo a settare con i giusti criteri. Bisogna purtroppo starci dietro. Quindi non sarà mai automatico. È automatico per i primi sei, sette, otto mesi. Poi basta. Quindi mi dispiace. Però è così. Voi prendete qualsiasi persona che vince un campionato mondiale, tra virgolette, che usa software automatici, poi lo vende e nessuno fa soldi come li ha fatti lui nei campionati mondiali. Perché ci vuole tempo per poterci stare dietro. Mi soffio un attimo il naso. Ok. Poi. Gestione e passaggio prop. Anche questo è la cosa più semplice, ma raga più semplice da poter arrivarci in maniera logica. Allora. Le prop, la maggior parte, ok? Hanno come max allocation dai 400.000 ai 700.000. Ok. Più o meno. Alcune hanno un milione, altre due milioni, eccetera. Ok. Questo non è importante. Però per capire molto bene l'allocation, cioè la max allocation, basta fare questo calcolo qui. Dovete moltiplicare per il doppio dell'ultima prop disponibile da poter comprare. Esempio, FTMO ha la 200k, ok? La max allocation è 400k, che ora si è un po' alzata, che ci sono altre situazioni, però prima era 400k la max allocation. Ok? Quindi è molto importante. La maggior parte delle persone dicono, io faccio la gestione prop perché sono già alla max allocation delle nostre. Ok, va bene. Di prop che io considero buone ce ne sono veramente tante, cioè ce ne sono almeno una ventina. Ok? Almeno 20. Dove le potete andare a trovare? Su propfirmmatch.com dovrebbe essere. Ok? E lì c'è tutta la classifica delle varie prop. Ok? 20 ce ne sono tranquillamente. Se voi fate 20 per 400, vi dico subito quanto fa, però dovrebbe fare una cosa come 8 milioni. Esatto. Sono 8 milioni. Cioè sarebbero 8 mila, però il conto è 400 mila, ovvio che sono 8 milioni. Ok? Quindi potenzialmente una persona, ce ne sono poi di più di 20 eh, però sono quelle che mi sono venute in mente adesso. Una persona ha la possibilità di gestire 8 milioni. 8, ok? 8, 8 milioni. Non so se capiamo. Cioè un 10% annuale, ok? Sono tanti tanti soldi, ok? Un 1% sono tanti soldi, ok? Quindi 8 milioni. Perfetto. Quindi, o tu sei a, boh, un veramente bravo e che quindi sei riuscito a gestire 20 prop insieme e quindi sei già arrivato a 8 milioni, che è fattibile, ok? Non lo nego. Ma in più ti metti anche a fare gestione e passaggio prop. Ma se io sono arrivato ad affare, sono arrivato a affare 20 prop, le ho maxate, quindi sono tutte a 400 mila, che poi ce ne sono di più che danno anche 400 mila, però ipotizziamo che sono a 8 milioni, ok? Per quale motivo io dovrei mettermi a gestire una prop, ok, di altre persone andandomi a prendere il 30% del profitto? Io mi vado a prendere il 70% del profitto. Non mi vado a prendere così poco, perché? Perché mi dovrei prendere così poco? Alla fine tutto il lavoro lo faccio io, quello che fanno loro è una rendita, la classica, sai, rendita passiva. Cioè, io... Tu ti tieni il 10%, non fai un cazzo, metti solo i soldi, ma 10% annuale, vuoi? È un fondo di investimento, eh? Ok, quindi, dicevo, una rendita passiva del 10%, scusate ma ho l'influenza, quindi molte volte dovrò stoppare per soffermi il naso, starò notire. Quindi è una rendita passiva del 10%, ovviamente il 10% su magari l'1% generale, ovvio che vi rimarrà una cosa come 100€. Ma ragazzi, sono 100€ senza fare un cazzo? Tanti di voi secondo me non capiscono comunque il valore dei soldi. Poi, investimenti miracolosi. Investimenti miracolosi, so che tantissime persone purtroppo ci cascano, ma perché tantissimi di voi me lo dite quando venite a contattarmi. Purtroppo, è così, non ci si può fare niente. Tantissime persone credono a queste cose e io anche lì dico come è possibile, però so, mi rendo conto che se non sei stato scottato già una prima volta, comunque non è facile non crederci a queste cose. Ok, quindi lo riconosco. Però il 30% al mese, Dio buono, fate più di qualsiasi cosa. Però, va bene, comunque, ok. Perfetto. Adesso passiamo al come arrivarci. Quindi, quali sono i punti che ci servono per arrivare? Allora, la prima cosa, la prima cosa, la prima fottuta cosa è trova qualcosa che ti piace. Quindi trova il business. Ok? Per prima cosa, trovare il business. In questo caso, il nostro business è il trading. Se, amor mio, hai scelto il trading, ti dico già che, a differenza del drop, SMMA, qualsiasi minchia di settore online, ok, ci vorranno più anni. Ok? Quindi stai scegliendo la strada più lunga, o meglio, probabilmente più lunga, e soprattutto perché? Perché il trading ha una scalabilità molto più ampia. Molto più ampia, ok? Molto più ampia. Perché è questo? Perché, ovviamente, come vi ho fatto vedere, prima potete arrivare a passare 20 prop, quindi con la max allocation, e avere 8 milioni. Ok, facciamo 8 milioni. Potete farlo. Ovviamente richiederà del tempo. Perché, nel momento in cui, voi diventate, tra virgolette, profittevoli, tutto sarà stato, in questo momento, fin così, da quel momento in cui sarete profittevoli, tutto sarà in discesa. Cioè, tutto sarà molto più facile. Cioè, è un fattore anche di credenza, ok? Perché, ovviamente, all'inizio, la prima cosa che voi credete è, si possono fare o non si possono fare questi soldi. Voi avete la prova che io, in un mese, ho fatto la metà, ok, di quello che fa una persona normale all'anno. Ma neanche un mese, erano una cosa come 17 giorni, ok? Quindi voi avete la prova in mano. Voi dovete credere. Cioè, avete la credenza di questa cosa che si possa fare o meno. Andiamo avanti. Il secondo punto, ovviamente, è trovare un mentore. E adesso voi vi chiederete. Ma perché? Perché, Andrea, devo cercare un mentore? Devi cercare un mentore perché tu hai bisogno di spiegarti, di farti spiegare come funzionano le cose realmente. Il problema è questo. Cioè, il problema è reale. Nessuno, là fuori, nessuno, ti spiega le cose in modo reale. Guardate su YouTube Italia quante persone ci sono che fanno dei video come li facciamo noi. Nessuno. O se ci sono, ti raccontano tutti la favoletta del cazzo. Ok? Quindi questo è, purtroppo, la verità. Ma soprattutto perché trovare un mentore? Tantissima gente viene a dire, ma per quale motivo una persona dovrebbe fare formazione? Allora, scusami, una persona che fa l'avvocato non studia o non vorrebbe studiare dai migliori avvocati al mondo. Chi studia per diventare avvocato ad Harvard studia dai migliori professori che hanno insegnato ai migliori avvocati. Quindi, è importante. È importante scegliere con cura il proprio mentore. Poi, il problema del mentore è che è colui che ti deve seguire. Cioè, deve essere un supporto costante. Ed è quello che noi cerchiamo di fare. Ok? Un supporto costante. Cioè, il mentore deve come diventare tua moglie. Cioè, tu gli puoi chiedere qualsiasi cosa. Deve essere un, come posso dire, un rapporto di amicizia. Ok? Ma sempre con un certo livello. Ed è molto importante perché il mentore ti fa evitare di ripetere i propri errori. Ok? Qualsiasi avvocato vorrebbe studiare dai migliori avvocati del mondo. Qualsiasi avvocato, ok, una volta che ha iniziato, appunto, la sua carriera vorrebbe andare nel miglior studio di avvocati della zona. Facciamo ad esempio New York. Ok? Il migliore. O i migliori. Allora, per quale motivo una persona non dovrebbe o non potrebbe insegnare barra accostarsi? Cioè, io mi accosto a te. È molto importante questo. Poi, terzo punto. Una volta trovato il mentore, ok? Stai strict. Non so se anche se si scrive così, non mi ricordo. Sul piano. Cioè, studia solo quello. Il tuo studio si basa su ICT. Ok? Va bene. Comprendi due concetti di ICT e diventa un mago di quei due concetti. Devi diventare un un cazzo di genio di quei due concetti. Cioè, deve essere proprio, anche lì, deve essere tua moglie quel concetto, oi. Cioè, deve essere veramente importante quel concetto per te. Perché se no non cambia niente. non puoi pensare di passare che tu dici, ah, da ICT passiamo ad algo. Da algo passiamo il volume. Ui, raga, dai, eh. Non è che uno che fa avvocato e fa diritto penale poi passa diritto civile poi passa diritto dell'azienda. Cioè, no. Non funziona così. Non è che un chirurgoplastico poi passa, ehm, non lo so, chirurgo quello per il cervello, eccetera. No. Devi stare strict su una cosa sola. Ok? Perché tu ti stai fidando di quella persona. Ma, ti dico che se tu scegli ICT, se tu scegli algo, se tu scegli il volume, o se tu scegli support and resistance, tutte hanno un edge, quindi una percentuale. Ok? Se costui hanno percentuali, significa che tutte sono profittevoli. Tutte. Da ICT, da algo, da volume, da support e resistance, da GAN, da Wyckoff, da qualsiasi cosa. Ok? Hai una percentuale. Quindi hai la possibilità di essere matematicamente profittevole rispetto al mercato. Questo è. Niente di più. Quindi, ti prendi ICT, te lo studi per 4 anni, te lo studi per 8 anni, diventi profittevole. perché non c'è nessuno che fa una cosa per 4 anni di fila, sempre la stessa identica cosa e non diventa profittevole, ma in qualsiasi business. Perché nel momento in cui tu passi da ICT, passi ad algo, è come se tu ricominciassi da capo. Perché? Quando tu inizi, hai la fase chiamata learning phase. Ok? La learning phase. La learning phase è quella fase in cui è difficilissimo ottenere risultati, ma che ti porta però a capire bene che cos'è o ICT o algo. Insomma, quelle robe lì. Ok? Purtroppo è questa. Cioè, la learning phase è una fase dove praticamente il 99% delle persone non ottiene risultati. Dopo questa learning phase tu arrivi ad avere un ottimismo inconsapevole. Cioè, stai vedendo magari che le analisi sono corrette e quindi decidi di buttarti all'interno di una prop. E fai la prop. Però ti accorgi che le prop o anche un conto personale non sono così facili come ti aspettavi. Perché magari qua hai studiato un mese. Non sono così facili come ti aspettavi. Non sono così facili. Allora passi a un delusione. Dopo la delusione rifai tutto questo processo qua. Ovvero decidi di cambiare. Oppure decidi di affiancarti a sale segnali eccetera. Quindi quello di cui abbiamo parlato prima. Ok? Questo. purtroppo. E poi ricomincia tutta la fase. Quindi di nuovo learning phase. Di nuovo l'ottimismo inconsapevole. Di nuovo la delusione. Il problema è che dopo la delusione c'è un apprendimento. Perché non credo che se tu metti la mano sulla pentola e ti scotti lo andrai a rifare. A meno che non sei qualche persona a cui piace farsi male però il 90% delle persone non succede questa cosa qua. Quindi purtroppo perdere soldi ti fa avere una delusione ma ti fa avere un apprendimento. Un apprendimento cosa significa? Ti fa capire che cosa bisogna fare e che cosa non fare. Ok? Quindi è molto importante. Non bisogna cambiare. Quarto punto. Purtroppo bisogna perdere soldi. Cosa significa che bisogna perdere soldi? Bisogna stanziarsi e qua vi faccio l'esempio di quello che ho fatto io un budget e io ho messo all'incirca 6.000 euro ok? Di cui tre destinati alla formazione e tre destinati all'acquisto di prop. all'epoca la maggior parte le avevo comprate sia su FTMO che su MyForexFound che all'epoca costavano all'incirca 120 dollari per FTMO 150 più o meno e 100 dollari per MyForexFound quindi all'incirca io avevo 30 prop. Di queste 30 prop come vi avevo detto ne avevo passato una cosa come 6 solo per farvi capire ok? però io ormai questi 3.000 euro che avevo destinato alla formazione li ho esattamente eseguiti come ho detto prima quindi ho trovato il mio mentore una persona di cui mi fidavo e una volta fatto questo sono stato strict quindi sono andato diretto proprio a capofitto solo a seguire quello non ho cambiato poi al massimo cambio dopo ma cambio quando ho la possibilità di poter perdere ulteriori soldi quindi quando sono già profittevole voglio andare più nel dip va bene andiamo nel dip però devo andare sempre nel dip di quella cosa lì ok? molto importante quindi io sono partito con 6.000 euro di questi 6.000 euro ho detto oh mal che vada li butto cioè mal che vada li perdo ho 20 anni ne avevo 19 oh mal che vada cosa succede? li perdo eh ricomincio da capo perché secondo voi iniziare da 0 iniziare da 6.000 non è la stessa cosa? non c'è differenza fin quando non perdi almeno 100.000 euro quando perderai 100.000 euro allora lì sarà già sarà già diverso ok? perché tirarsi sulle maniche dopo aver perso una cifra del genere è molto difficile molto difficile quindi io 6.000 euro li ho stanzati per fare questo oh 6.000 euro ho passato eh cioè una percentuale avevo una percentuale bassissima però di quelle 6.000 euro 2 le ho provate a profitto 2 mi sono staccato all'incirca 2.000 euro quindi io di questi 6.000 euro ero già tra virgolette in debito solo di 4 e io cosa ho fatto con questi 2.000 euro? ho di nuovo ricomprato 20 prop di queste 20 prop ne ho passate forse non vi voglio dire cazzate ma ne avevo passate 3 di queste 20 prop ne avevo passate 3 e avevo fatto all'incirca anche qua forse 2.000 euro di questi 2.000 euro di nuovo 20 prop di queste 20 prop io mi ricorderò sempre che ho detto eh se prima ne ho passate 2 adesso ne ho passate 3 ora dovrò passarne di più una ne avevo passata di queste 1 ne avevo passate 1.000 euro perché questo? perché quando cioè la vita ok la vostra vita ve ne sarete accorti non sarà mai così cioè dritta lineare avrà sempre delle situazioni come se fosse un grafico quindi avrà sempre delle situazioni dove avrete il vostro picco avrete il vostro picco più basso e poi ricomincerete di nuovo la salita dopo questo io sono andato ad acquistare 10 prop di quelle 10 prop e che quindi era molto più come posso dire erano molte meno rispetto a quelle che avevo già fatto ne avevo passate 6 e poi da qua ho iniziato la mia scalata poi ovviamente sono andato sempre più nel dip e quindi come vi avevo detto anche l'altra volta io ho speso 17.000 euro per una singola formazione ma io questi 17.000 euro li ho fatti fruttare sempre facendo così quindi sempre andando a reinvestire quello che era il mio capitale e non facendo niente ma perché tuttora io non faccio niente cioè non sono una persona come vedete da Instagram da di qua da di là io non posso non faccio niente mi faccio i cazzi miei non vi devo vendere un sogno perché purtroppo per vendervi un sogno io prendo la persona come Mario o Luigi non so i primi nomi mi sono venuti in mente ok che sono due persone che vogliono fare i soldi domani purtroppo a me di fare i soldi domani non me ne frega a me interessa prendere prendere persone come Emanuele che mi possono portare dei risultati ok mi devono portare dei risultati se voi guardate noi nel gruppo siamo 250 persone ok di studenti praticamente tutti 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 quasi tutti se non il 90% almeno ha postato una volta nel canale studenti risultati studenti quindi ha postato un proprio risultato ma secondo voi sono il mago merlino io che quelle 250 persone che ci sono state e che ci sono ancora all'interno del percorso si hanno arrivato ad un risultato no non sono io mago merlino semplicemente è un supporto praticamente 24 ore su 24 dove noi diamo quello che è la cosa giusta cioè la realtà questo è non c'è nessuna verità io in due anni ho preso 250 persone ok di queste 250 persone almeno 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 40 o 50 io ho l'intervista da doverli fare quindi sono persone che hanno più superato più di 10.000 euro di payout ok e ce ne sono tantissime altre che invece fanno numeri normalissimi quindi magari fanno 1800 al mese ok ecco il trading però non le porto sul canale per fare l'intervista ma anche se so che fanno molto di più di tutti di praticamente qualsiasi persona che vedete su youtube ma perché perché semplicemente a me interessa che quella persona si concentri nell'arrivare a fare quel determinato risultato una volta questo allora mettiamo tutti su youtube poi altro 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 una cosa molto importante la nostra percentuale di persone profittevoli è molto più alta rispetto a qualsiasi alta percentuale di altre persone quindi questo è comunque direi che vi ho detto tutto quindi mi raccomando per arrivare a 10.000 euro per fare questo l'importante la cosa più principale è perdere soldi e trovare un mentone ma soprattutto trovare il tuo business quindi trova il business che fa per te non è detto che il trading faccia per te purtroppo il trading non fa per tutti ma come qualsiasi business in generale non non fa per tutti ok fare business in generale non è per tutti purtroppo bisogna prendere rischi e non tutti sanno o possono o vogliono prendere rischi questa è la vita non c'è niente di male nel non voler prendere rischi ma non è la mia vita e non è la vita di qualsiasi altra persona che si interfaccia a me ovviamente se voi pensate di poter far soldi con 150 euro vi dico solo una parola svegliatevi perché siete dei coglioni non si può fare soldi se non si hanno soldi quindi prima ve lo mettete in testa prima è per voi perché per quanto mi riguarda purtroppo e ragazzi ripeto purtroppo tutti l'hanno dovuto fare si può andare tranquillamente a lavorare e si prende più di 150 euro perché in un primo momento voi dovrete pagare tra virgolette con il vostro tempo cioè voi non avete tanti slot se ipotizziamo avete 10k mettete su un conto personale no perché perché di questi 10k che sono totalmente di una persona neofita li bruci li bruci 100% quindi cosa fai fai 1000 euro ti compri 10 prop cerchi di capire qual è il tuo problema nei passate 3 30% buono di queste 3 ne porti a profitto 2 ti sei fatto 2000 euro esempio quindi sei rientrato nel tuo investimento allora a quel punto ti dico se sei riuscito a portarle a profitto rinvesti questi 2000 comprati 20 prop oppure ti compri ti compri le pro più alte scusate un attimo scusate mi avevo suonato la porta dicevo quindi 20 prop oppure vi prendete 5 prop da magari 25.000 quindi cercate di aumentare un attimo il budget prima siete presi con 10 prop di 10.000 cercate di aumentare ok quando siete arrivati ad avere almeno una 100k facciamo così diventa più facile quello che dovete fare è dire ok ora sono pronto per poter andare a gestire i miei 10k che mi sono ripromesso ovviamente avranno un rischio diverso ma voi anche a livello di testa ecco qua avete un livello diverso perché avete una mentalità di una persona che è già ai risultati ok non siete una persona che ancora non ha risultati quindi le vostre credenze in questo momento sono corrette cioè quando voi guardate non lo so Cristiano Ronaldo ok Cristiano Ronaldo c'è R7 prima di battere ogni calcio di punizione anche se adesso purtroppo è vecchio però chi siamo lui dice superi la barriera e fai sempre gol ok superi la barriera e fai gol come tu sai fare adesso voi direte eh ma Cristiano Ronaldo ha fatto 900 gol in carriera grazie al cazzo che anche io sarei confident sul fatto sì ma lui lo era anche quando aveva 18 anni non aveva fatto nessun gol la mentalità del avere la credenza e soprattutto credere in se stessi talvolta vi fa male ma nel lungo sarà sempre 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 importante per voi sempre quindi detto questo vi lascio con questi altri 40 minuti che secondo me sono 40 minuti di puro valore che si possono semplicemente raffigurare in studio investi perdi impara profitti è molto vi dico già che è molto difficile imparare senza perdere dovete essere veramente persone molto intelligenti per riuscire a capire perché siamo in un mondo completamente diverso è come aprire un negozio vi faccio un esempio sul trading voi avete il 50 e 50 ok con un rr ve l'ho già spiegato un'altra volta di 1 a 1 se aprite un bar a una città a Monza che ieri c'è stata Monza Inter quindi lo guardate per quello è venuto in mente Monza che avrà 50.000 abitanti non lo so 50.000 70.000 non lo so quante probabilità ci sono che è riuscita a fare 10k al mese a prendere un bar poche perché chissà quanti cazzo di bar ci sono già quindi dovete essere dei maghi nel marketing cioè dovete riuscire a portare un botto di persone nel vostro bar a Monza ma non è assicurato il fatto che voi abbiate questa skill ma soprattutto che voi abbiate questo ritorno economico perché se no lo farebbero tutti quindi quando vi dicono che fare trading o fare qualsiasi altro business ha un rischio ha lo stesso rischio identico che aprire un bar o che aprire una tabaccheria o aprire una qualsiasi lavoro che abbiamo qualsiasi ricordatevi sempre che a Roma ci sono lo stesso numero di avvocati che in tutta la Francia con questo vi lascio è stato un piacere e ci vediamo direttamente al prossimo video